Ma allora, l'amore per la musica penso sia nato da sempre, sono sempre stato un onnivoro musicale da quando sono piccolo, sempre ascoltato qualsiasi genere, sono sempre stato molto curioso e questa cosa proprio me la sono portato dietro negli anni. Prima approccio nel club, 2005-10, se non sbaglio, minorenne ancora. Come gli giovani domenica? No, no, sabato sera. Ah, ciao sera. Gli giovani, Magda. Quello fu il battesimo, diciamo. Perfetto. E da lì sei stato, diciamo, abbastanza folgorato? Sì. Avevi già preso, no? Avevo iniziato a livello teorico prima, poi andando a quella sera lì ho capito, ok, questa è cosa che mi piace. Ci vorrei essere io lì? Sì, esatto. Ok, e com'è stato quell'approccio, no? Al iniziare a suonare, quindi immaginavo che tu abbia iniziato a comprare magari qualcosa? Sì, ho iniziato qualche software, di quelli proprio free play. Certo. Ma base, base, ma è stata una conseguenza di quello che sentivo, di quello che sentivo e volevo esprimere. Però era riferito tutto alla mia camera prima, era tutto qui, non pensavo se fosse andato fuori e potesse continuare. Ok. Poi è successo che siamo riusciti alla camera, sì. Ok, come è stata con queste prime esperienze poi con il pubblico? Ti ricordi, c'era qualche aneddoto un po' particolare? Il ricordo è di essere sempre stato molto teso all'inizio, soprattutto perché avevo un approccio molto intimo alla musica, cioè sentivo di mettermi a nudo molto proponendo alla musica che volevo suonare e quello che mi piaceva. Poi mano a mano mi sono un po' distaccato da questo elemento e ho messo dentro quello che è il mio gusto, proprio un po' più settio. E ho sempre avuto comunque una buona interazione. Ok. Ok, grazie. Perché sono, esatto, sono uno che aveva sempre ballato. Ok. Quindi è sempre stato dall'altra parte. Quindi ci rivedi anche molto in quello che hai davanti, sai che la gente cosa prova quando li a ballare che... Penso sempre come ti stai lì davanti. Ok, certo. Essendoci stato sempre, e ci suono tutt'ora, mi sembra sempre andare a ballare e andare a morire. Sì, ho sempre questa doppia visione della cosa. Cosa ti ha influenzato a livello artistico, no? Ti metto, ascolti un po' di tutto, no? Però poi quando vai a suonare comunque una timbria tua di quando suoni è riconoscibile, no? Allora, a livello, se si parla di ascolto, avendo veramente tantissime influenze, dentro quello che propongo ci si può ritrovare dalla Django, dalla Breakbeat, alla Tecno, all'Electro, all'Elettronica, al Munch, anche magari anche al Rap, qualsiasi cosa. Quella che mi influenza è quello che percepisco molte volte quando vado a ballare. Cioè ho qualcosa che mi colpisce, mi influenza. Si d'approccio, d'approccio. Non tanto quello che sento magari al computer o in casa o... Certo, collettivi magari, ecco. Quello che sento non solo a livello sonoro ma proprio a livello di sensazione. E non si può parlare dei gruppi che fai parte? Collettivo Zeag, ma è un collettivo che abbiamo dal 2019, partendo da Feste in Villa, prevalentemente, di 19-14 ore, che è il nostro signato party. Però poi ci siamo approcciati nei club e proponiamo al mille e uno a Colle e anche in altri posti il nostro sound, il nostro concept di party. Allora, l'obiettivo è di continuare a fare quello che stiamo facendo, più tempo possibile, sempre di farlo meglio. Vorremmo aprire una label, quindi sarebbe stampare i dischi, come il Zeag, ma anche i nostri, moltissimi produttori, tranne me. E poi sì, questo sarebbe continuare a proporre il nostro concept di party per più tempo possibile, nel miglior modo possibile. Ok. Anche te, se hai qualche altra passione, oltre alla Musia, che avresti voluto? Tantissime, dalla scrittura, alla pittura, non dichingendo, alla fotografia, non fotografando, da amante. Ok, bello. Però sì. Qualsiasi forma di arte possa colpire una persona a livello... Se non avessi fatto Musia? Probabilmente scrittore. Ok. Probabilmente. Ma non bravo. Non bravo. Megliore. Ok, ok. Megliore. Io ora ti ringrazio, spero che sia stato bene, ti sia divertito. E quando dovete passare, siamo qua. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.